Grazie a tutti gli amici e amiche che si sono collegati a questa nuova puntata degli Olivetti Design Talk. Due parole su come sono nati, le abbiamo creati io e Pierpaolo da una chiacchierata e sono organizzati dall'Associazione Archivio Storico Olivetti insieme ad Olivetti alla Fondazione Adriano Olivetti e il Politecnico di Torino. Mi presento per chi non mi conosce, Gaetano Di Tondo, sono il presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti e sono direttore comunicazione e relazioni esterne di Olivetti. Perché il design e perché Olivetti? Ovviamente il design lo conosciamo tutti nel percorso storico di Olivetti, vedremo sicuramente qualcosa anche nel nuovo percorso. Il Olivetti oggi la firmiamo con un video istituzionale che chiude con Design Miss Technology ed è un percorso che riprende tutti i valori, tutti i contenuti dal passato ma sono attualizzati. Quindi quel concetto di DNA Olivetti è sempre presente in questo filo conduttore che racconta la nostra storia. Quindi il design insieme ai prodotti, insieme all'innovazione, insieme al welfare, insieme a tutti i vari valori che sono noti a tutti. Quindi il design è anche elemento di eccellenza, elemento di supporto strategico in tutta una serie di percorsi. Il design è inteso non soltanto come design fisico ma ci sono tante modalità e tanti approcci. Il tutto poi nella nostra storia ma anche nella nostra attualità segue un pochino un altro punto centrale che è quello della human centricity. Io spesso dico dalla comunità di Vrea mi sposto a un concetto di community perché alla fine stiamo utilizzando anche metodi intanto di condivisione come questo, di attività fatte su strumenti contemporanei e digitali e diversi rispetto al passato. E poi perché ormai lo storytelling che facciamo soprattutto da un anno e mezzo va verso un concetto di community. Stiamo aggregando anche noi come Archivio Storico Olivetti una serie di nuovi amici, fan, follower, chiamiamoli come vogliamo in giro per il mondo. Quindi questa situazione ci ha dato da una parte anche questa possibilità di fare questo racconto. Quindi ringrazio tutti quelli che diciamo tutte, allora intanto tutte le persone che hanno deciso di mettersi in gioco con noi nel fare dei racconti condivisi e tutti quelli che ci stanno supportando in questo percorso. Per Paolo direi di, se vuoi raccontare qualcosa tu della puntata di stasera. Grazie, grazie Gaetano. Intanto anche io dico buonasera ovviamente a tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento e per un secondo vi presento i nostri ospiti. Allora, bisogna dire questo, che questi incontri, lo dicevamo fino al primo Olivetti Divine Talk, hanno l'obiettivo di mettere a fuoco proprio il significato di Stile Olivetti. Cosa significa Stile Olivetti? Probabilmente Stile Olivetti è anche quasi sinonimo di eccellenza del prodotto Olivetti. Stile Olivetti tra l'altro è anche il titolo proprio di una mostra inaugurata a Zurigo nel 1961. Che cosa rientra nello Stile Olivetti? Rientra certamente la lettera 22 che abbiamo indagato a fondo qualche puntata fa. Rientra il logotipo, il marchio, rientrano i negozi Olivetti, rientra la fabbrica, rientrano l'architettura, ecco, i manifesti, insomma tutto il tema dell'identità visiva che è l'argomento, diciamo, dell'incontro, dell'incontro di oggi. Una identità che non è disciplinata, diciamo, da alcuno strumento fino agli anni 70, ecco. Il primo manuale di Corporate Image Olivetti viene prodotto infatti tra il 1971 e il 1977 e qui abbiamo appunto qui in Otrini Castelli che è il principale autore proprio dei manuali rossi. Allora vi presento immediatamente i nostri ospiti. Direi iniziamo da Carlo Vinti, intanto magari Carlo se puoi fare un segno. Carlo è docente presso la scuola di architettura e design dell'Università di Camerino, è principalmente uno storico del design, ha insegnato anche all'Università UAB di Venezia, all'Isia di Urbino e come dicevo appunto si occupa di storia del design e della grafica con una particolare attenzione al ruolo della committenza industriale. E' autore di numerosi testi, tra questi, voglio ricordare gli anni dello stile industriale, Marsilio 2007 e il catalogo della quinta edizione della trennale Design Museum, questo nel 2012 insieme ad altri. Invece poi abbiamo Clino Trini Castelli, insomma è molto conosciuto, appunto lo abbiamo già nominato come principale autore appunto dei libri rossi, è un designer, è un artista, è teorico del design, vive e lavora a Milano. Diciamo che ha vinto intanto numerosissimi premi e tra questi il compasso d'orbenne e ben volute. Si è concentrato fino dagli anni 70 sul metaprogetto e sugli aspetti figurativi più intangibili, come ad esempio il colore, la luce e il suono. E ha sviluppato anche un interessante approccio sensoriale all'arte e al design. Dal 64 al 67 lavora nello studio dietro e sozzas a Milano su progetti per la società Olivetti, poi nel 69 rientra Olivetti come designer e poi, come dicevamo, è autore dei famosi libri rossi, che sono questi strumenti appunto per disciplinare, diciamo, l'immagine della società Olivetti. Abbiamo poi Antonio Pace, Antonio, ecco ti. Ecco, Antonio ha vissuto per 30 anni in Germania ed è un type designer, laurea in comunicazione visiva con specializzazione in graphic design presso la Hochschule Furghesterdum, Offenbach, a Francoforte l'avrò detto malissimo, immagino. Ha progettato numerosi font per istituzioni pubbliche e aziende quali appunto il Comune di Milano, ENI, Comune di Roma, l'Università Lewis, Salini Impregilo, che oggi si chiama WeBuild, poi anche la squadra di calcio Milan e molte altre. Insegna presso la Roma University of Fine Arts. Allora, direi abbiamo ormai 50 minuti circa, direi che possiamo iniziare intanto da Carlo Vinti. Allora, Carlo, abbiamo citato questo stile Olivetti, quindi ti chiederemo di inquadrare un po' quali sono le caratteristiche di questo stile nella fase precedente naturalmente alla pubblicazione dei libri rossi. Grazie. Certo, buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, ringrazio l'associazione Gaetano Di Tondo e Pierpaolo Peruccio, che conosco da tempo. Allora, ovviamente non è facile raccontare la vicenda dello stile Olivetti in pochi minuti, ma ci proverò anche con alcune immagini. Adesso condivido anche lo schermo. Ditemi se funziona. Benissimo. Vedete tutti. Perfetto. Allora, non è facile, soprattutto il tema di oggi è logotipi e letteri, se non ricordo male. La caratteristica chiave, come molti di voi sapranno, dell'immagine Olivetti, almeno fino appunto agli anni 70, è proprio quella di non puntare così tanto sul logotipo e sui segni di identificazione. Dicendolo con le parole di Renzo Zorzi, in realtà anche nel momento dei libri rossi, poi ci possiamo confrontare su questo, diciamo il tema dell'identità è più forte di quello dell'identificazione o comunque non viene mai lasciato da parte. Stile Olivetti ha una valenza, questa parola stile che veniva usata negli anni 50 e che aveva reso celebre Olivetti nel mondo con una connotazione anche spesso comportamentale, cioè l'equivalenza di forma e contenuto era fondamentale per i protagonisti della cultura olivettiana e soprattutto avere stile era in un senso quasi, potrei dire, aristocratico, comportarsi bene oltre che presentarsi bene. Detto questo, l'immagine di Olivetti non è che non avesse mai avuto, non avesse un valore commerciale e questo diciamo, questa capacità di Olivetti di essere immediatamente riconosciuta come un modello esemplare nel modo di presentarsi al pubblico, di presentare i propri prodotti e così via, viene immediatamente riconosciuta dalla stampa specializzata. Vi volevo solo, diciamo, volevo condividere con voi alcuni esempi negli anni. Questa è la rivista Art & Industry nel 1939 in cui si dice chiaramente che, diciamo, il lavoro che viene fatto dall'ufficio pubblicità Olivetti, poi arriviamo di quando è stato fondato e tutto, sulla, diciamo, la promozione dei prodotti e l'identità dell'azienda riesce, diciamo, a fare in modo che i compratori non dicano vado a comprare una macchina da scrivere, ma vado a comprare un Olivetti. Quindi questo tema, diciamo, della personalizzazione di, diciamo, rimuovere la personalità dal prodotto è qualcosa che viene subito riconosciuto dalla stampa specializzata. Negli anni 50 Olivetti è un fenomeno internazionale, la rivista Design, del Design Council inglese, dedica molto spazio a questo esempio e soprattutto in questo articolo l'accento viene posto su che cosa? Sul fatto che l'eccellenza cosiddetta del design Olivetti non sta, non è applicata unicamente al prodotto, ma è applicata a tutte le manifestazioni dell'azienda, a tutte le scale, dalla macchina fresatrice progettata da Giovanni Pintori, alle schede degli schedari, ai mobili che servono a conservarli, ovviamente dall'architettura, ai mezzi di trasporto, eccetera, eccetera. Un approccio assolutamente totale e anche la capacità, diciamo, di far entrare la cultura del design a tutti i livelli dell'azienda, da quello manageriale fino, diciamo, agli impiegati, all'intera comunità aziendale. E l'ultimo, diciamo, spot, diciamo, che volevo condividere con voi di questa, diciamo, rapida ascesa negli anni del secondo dopoguerra dell'Olivetti come modello esemplare di immagine e di impresa è la famosa mostra del Museo Modern Art di New York del 1952. è la prima volta che il MoMA di New York dedica una mostra ad un'azienda e non ad un fenomeno culturale o un artista o un designer e nel piccolo puscolo che accompagna questo evento si dice chiaramente che non si può sottovalutare, diciamo, l'importanza di presentare tutti gli aspetti visivi di un'industria anche dal punto di vista commerciale come se fossero il lettering della Coca-Cola. È interessante questo paragone quasi un po' blasfemo, no, per gli olivettiani, fra la Coca-Cola e il lettering della Coca-Cola. Si dice che è l'intera immagine dell'azienda che in realtà ha questo effetto mnemonico e anche economico-commerciale di, diciamo, ricordare al mondo chi è, cos'è Olivetti. Ma i logotipi ovviamente non sono centrali in questa fase, ma non è che non ci si lavori sopra e che non abbiano una loro importanza. Lo dimostra la stessa copertina di Leolioni, di questo opuscolo, che ha questa caratteristica che, diciamo, ha accompagnato tutta l'identità Olivetti nel tempo. E se in qualche modo, diciamo, è un'eredità che ci portiamo dietro ancora oggi. L'evoluzione del logo Olivetti, spero di non ripetere cose note al pubblico. Ovviamente c'è la prima versione che è proprio del fondatore Camillo Olivetti e che è legata all'azienda intestata a lui, l'ingegner Camillo Olivetti, e che, diciamo, viene, che compare nei primi modelli di macchine da scrivere, anche in una serie di prodotti accessori come nastri per le macchine da scrivere e che viene disegnata appunto, quantomeno schizzata proprio dal fondatore di Olivetti. Dopodiché, negli anni successivi, c'è una forte presenza di questo segno, di questo lettere in corsivo, a partire già dalla M1, dalla prima macchina da scrivere prodotta da Olivetti, che continua a comparire, non in maniera costante, fino al 1934 almeno. Ma questo segno, diciamo, non poteva durare a lungo, perché in qualche modo nel frattempo succede una cosa importante, succede che Adriano Olivetti, il figlio di Camillo, comincia a interessarsi non solo dell'azienda, ma anche della comunicazione dell'azienda e, diciamo, fra le varie innovazioni che introduce, la sua idea forte è quella di trovare un punto di connessione cruciale con la cultura razionalista, con la cultura del movimento moderno internazionale che in Italia, nell'Italia fascista, aveva la sua avanguardia a Milano. Infatti, l'ufficio pubblicità che lui fonda, molto presto si sposta proprio a Milano, nel 1931, il primo direttore è Renato Sveteremic, e comincia una lunga tradizione, diciamo, di giornalisti e di intellettuali umanisti che sono al servizio, o comunque che hanno questo grande ruolo di mediazione nei confronti dei designer. E questa svolta importante, è interessante che in una pubblicità degli Olivetti degli anni 30, si cita proprio questo legame con l'architettura razionalista che, come sappiamo, è fondamentale per lo stile Olivetti, e si dice come, diciamo, sono limpide le mura dell'architettura razionalista così è nitida la scrittura meccanica dell'Olivetti, perché è questo che vende Olivetti, la scrittura meccanica, e si dice che bisogna abbandonare la scarsa chiarezza e i ghirigori alla moda della calligrafia delle signore, perciò che questo non poteva resistere. E in realtà il secondo logotipo Olivetti ha fortemente delle radici nella cultura del Bauhaus moderna, perché a disegnarlo è Xantisciavinsky, che nel frattempo era prodato dalla Svizzera in Italia, che era stato al Bauhaus, e che sceglie una soluzione direi diretta, usa un carattere da macchina da scrivere, un linguaggio tecnico si chiama monospaziato, il pica per la precisione che era anche presente, diciamo, in alcune macchine Olivetti, ma un'ispirazione anche nel tutto minuscolo che Xavinsky usa, viene anche dal famoso carattere universale che Herbert Bayer aveva disegnato all'interno del Bauhaus, con questa idea, diciamo, di uniformare, di abolire la distinzione gerarchica fra maiuscolo e minuscolo, e di utilizzare un carattere universale da vari punti di vista. Questo logotipo compare frequentemente negli anni successivi, non in maniera, diciamo, assoluta, non è... in questi anni, diciamo, convivono più grafie, diciamo, del logotipo Olivetti, ma comincia ad essere utilizzato nelle campagne di promozione che realizzano i protagonisti della pubblicità e della cultura visiva Olivetti, come Giovanni Pintori, che nel frattempo è entrato in azienda, ha frequentato l'Istituto per le Industrie Artistiche di Monza, dove ci sono a insegnare vari protagonisti, alla cultura razionalista, Pagano, Edoardo Persico, e tanti altri, e, come dire, la svolta moderna dell'immagine Olivetti è compiuta. Giovanni Pintori sarà un personaggio chiave, ovviamente non abbiamo il tempo di parlarne per tutto il futuro, diciamo, dello stile Olivetti, accompagnerà l'immagine Olivetti fino al 1967 con il suo segno personale, ma si deve a lui anche una versione dell'immediato dopoguerra del 1947 del logo Olivetti, che tentava già in qualche modo di dare un ordine, diciamo, alla grafia Olivetti, ispirandosi a un carattere, anzi, prendendo un carattere della fonderia nebbiolo, l'etrusco, e modificandolo leggermente, ed è qui che compare per la prima volta quella O, diciamo, leggermente, cioè sicuramente più geometrizzata rispetto all'originale, l'etrusco, e una serie di accorgimenti, ovviamente di variazione degli spessori, fanno capire quanto Pintori nel frattempo ha acquisito delle competenze anche sul segno tipografico. Questa spaziatura fra le lettere molto larga caratterizza questa prima fase del logo Olivetti, che viene usato in alcuni dei capolavori, diciamo, della sua produzione, come appunto questo manifesto del 49 per le macchine da calcolo Olivetti, o qui lo vediamo per la Lexicon 80, ma molto presto sia questo lettering, sia il segno disegnato da un altro grande protagonista del design Olivetti, Marcello Nizzoli, anche lui che viene dalla cultura razionalista milanese degli anni 30. Tutti e due questi segni, la famosa spirale geometrica del 1952 di Marcello Nizzoli, vengono impiegati in un modo piuttosto interessante, cioè non esistono prescrizioni, non esistono regole nell'applicazione e ogni volta, diciamo, il loro utilizzo è piegato alla logica interna, al tipo di intervento, quello architettonico di Carlo Scarpa con il negozio Olivetti di Venezia, o addirittura nel 67 Jean-Michel Follon con la sua interpretazione più illustrativa, il suo stile caratteristico, il colore, e così per il logo abbinato, per spesso il lettering compare in corsivo, oppure non ci sono norme per i colori, e così via. Questa idea della continua variazione sul tema è sostenuta anche dai direttori della pubblicità che si sosseguono nel tempo, da Ignazio Weiss, questa idea di una regia, che diciamo è di un metodo informale che esiste all'Olivetti è quello che caratterizza lo stile Olivetti in questi anni, e dunque il logotipo, si può anche giocare molto con il logotipo, variarlo continuamente, come fa Pintori in queste occasioni che vi mostro. E se dovessimo quindi, in qualche modo, sintetizzare i tre pilastri dello stile Olivetti in questi anni in cui arriva a maturità, diciamo tra gli anni 50 e 60, uno è proprio questa idea che il grande teorico del design Tomas Maldonado ha chiamato unità nella varietà, cioè la capacità di essere riconoscibile nonostante la varietà di registri linguistici, la libertà di interpretazione che i vari protagonisti poi che venivano invitati a interpretare o Sirio Olivetti di cui potevano godere questi designer e grafici. Dall'altro lato, il fatto che lo stile Olivetti era interamente costruito dall'interno. L'ufficio pubblicità Olivetti aveva un ruolo fondamentale di regia, appunto, anche per quanto riguarda il disegno industriale, poi ha cambiato nome varie volte nel tempo, ed è qui, diciamo, all'interno dell'azienda che si produceva la cultura del design olivettiana e non a caso Riccardo Musatti, direttore di questa struttura, un altro intellettuale vicino ad Adriano Olivetti che diresse questa struttura, chiamato nel 1961 come spesso accadeva, a raccontare al mondo, negli Stati Uniti, in un congresso dell'American Society of Industrial Designer che cos'è lo stile Olivetti, una delle cose che dice, dice a volte siamo stati accusati di voler fare tutto da noi, in proprio, ma in realtà questo è dovuto alla nostra fede non tanto nelle nostre qualità, no? Ma nel fatto che c'è una responsabilità importante nel presentare il volto della nostra azienda al pubblico e dobbiamo conoscerla dall'interno. Questa idea, diciamo, di non costruire un'immagine artificiale per quanto possibile, ma di, diciamo, rispecchiare per quanto possibile, l'immagine dell'azienda è una costante dello stile Olivetti nelle sue diverse interpretazioni degli anni che si susseguono. Il terzo pilastro, diciamo, dello stile Olivetti che non ha a che fare solo con la forma, ma anche tantissimo con i contenuti culturali, è questa capacità del linguaggio grafico stesso e questa volontà di entrare dentro l'universo tecnico. questa, diciamo, modalità di rispondere del design alla grande ideale che era stato dell'intellettuale Leonardo Sinisgalli e che sarà poi ovviamente di Adriano Olivetti e di tutti gli altri intellettuali olivettiani, di provare a trovare un raccordo tra la cultura umanistica e quella tecnico-scientifica, quella tecnico-industriale. Questo ha anche un suo corrispettivo visivo, lo si vede bene nel lavoro di dipintori. C'è il tentativo di connettere, diciamo, il presente tecnologico e il futuro da parte di dipintori con la storia della scrittura, con la cultura della scrittura in tanti annunci con l'epigrafia, la stella di Rosetta e i geroglifici e così via. E c'è il tentativo di entrare dentro gli ingranaggi delle macchine, di evocare con il proprio segno le complesse operazioni matematiche che i macchinari consentivano, in qualche modo di dare sempre un'interpretazione estetica della tecnologia che è uno dei caratteristici, delle costanti, diciamo, dello stile Olivetti in questi anni. Allora, io arrivo a chiusura subito. la cosa che mi ha sempre interessato e affascinato dello stile Olivetti è che è una sorta di paradosso in questi anni perché in tutte le riviste i protagonisti della costruzione dell'immagine di Olivetti vengono invitati a raccontarlo come un esempio, come un modello esemplare. Dall'altro lato c'è chi dice che la sua eccezionalità lo rendeva poco, come dire, non era facile imitare questo modello e applicarlo a una realtà diversa da quello di un'azienda come l'Olivetti e su questo tema mi piacerebbe tornare dopo nella discussione che abbiamo ma ovviamente un altro tema molto interessante prima si parlava del, in qualche modo del DNA Olivetti, ecco, qui vi ho fatto vedere dei lavori in cui Adriano Olivetti era già scomparso prematuramente nel 1960 e diciamo almeno nel campo della cultura della grafica, del design nella capacità di veicolare la propria immagine come dire il metodo Olivetti resiste a lungo e secondo me resiste anche in questo lavoro che fra poco ci verrà presentato molto più sistematico che secondo alcuni come Enrico Morteo tradisce un po', è un momento di rottura rispetto a questa fase precedente proprio perché si comincia con le prescrizioni con i divieti con le regole e così via però mi ha sempre affascinato di questo lavoro invece proprio quest'analisi che è stata fatta inizialmente della storia del precedente che aveva avuto l'identità Olivetti dei caratteri varianti e invarianti e di cosa conservare e dunque secondo me ci sono anche molti elementi di continuità con la fase precedente con la cultura olivettiana ma di questo poi possiamo discutere anche dopo mi fermerei qui perché forse ho preso anche già troppo tempo e lascio la parola non so se a Pierpaolo grazie Carlo grazie Carlo allora Clino una domanda una domanda a te abbiamo cominciato la chiacchierata citando i libri rossi quindi il manuale ormai universalmente riconosciuto di corporate identity che ha permesso sicuramente ad Olivetti di gestire in maniera innovativa la propria immagine ma che è diventato un pochino anche l'esempio e la linea guida la linea guida per tante altre aziende allora visto che tu sei stato l'autore principale ti racconti un pochino come è nato questo progetto e cosa significa esserne riconosciuto ancora oggi l'autore principale con le cose di cui stiamo parlando anche su altri su altri tavoli beh è stata è stato il mio primo e più importante lavoro in ambito professionale non dimentichiamo che io ero arrivato all'Olivetti nel 64 portato da Sozzas 19enne venivo dalla Fiat e venivo da un mestiere ovviamente avevo preso il posto di di Giugiaro che era andato via lì alla Fiat ma io avevo fatto un corso molto importante giovanissimo di tracciatore tracciatore è un lavoro stranissimo perché tutti devono imparare il mestiere aziendale che aveva come finalità quella di definire delle fasi delle operazioni che vengono svolte nell'ambito della creazione di un oggetto soprattutto per componenti di macchine e cose di questo genere e naturalmente questo essendo stato fatto come formazione all'interno di un ambiente molto particolare molto sperimentale con un numero di per esempio di psicologi molto più grande di quello che si trova normalmente in qualsiasi altra scuola mi aveva portato ad assorbire una visione del modo di lavorare che quando Sozzas mi ha diciamo considerato come collaboratore ha trovato una forma di impiego per me molto particolare perché lui aveva più collaboratori che seguivano una serie di progetti con clear seguiva certi di macchine periching altri eccetera io ero più piccolo ero arrivato ripeto non avevo ancora vent'anni per cui a un certo punto lui ha capito che quel tipo di visione che io avevo particolare che sistemica in un certo senso che oggi io definisco estensiva prendendo il termine dall'agricoltura e questo tipo di operazione mi faceva sì che io riuscissi a tenere insieme tutta una serie di cose in questo caso particolare parliamo della grafica dei prodotti la grafica diciamo funzionale che quella oggi viene definita generalmente mondo delle interfacce ecco questo è stato il mio primo lavoro che ho fatto per Olivetti ed era un lavoro ovviamente di natura sistemica però non dimenticate che in quello stesso anno all'Olivetti arrivava Peccei come amministratore delegato vedete sono figure completamente differente in quel momento all'inizio degli anni sessanta dopo i traumi anche il trauma di Sotra che stava per essere perso come per ragioni di salute c'è stata una separazione netta tra quella che era la visione fatta per persone che operavano in una diciamo continuità in un numero molto limitato grandi figure tutti di grande personalità che avevano ovviamente la capacità di tenere le cose insieme in modo molto naturale non avevano bisogno di prescrizioni ognuno faceva le scelte che riteneva più opportune c'era un mandato generale ad agire in un modo responsabile eccetera per cui grande successo il concetto di stile nasce proprio collegato l'idea pre-design nel senso che gli anni 50 in cui il concetto di stile era evidente e molto significativo è stato percorso in modo magistrale dall'Olivetti proprio per questa sua attitudine globale tuttavia la situazione stava cambiando e anche molto rapidamente per cui a un certo punto quando io ho avuto l'opportunità di riprendere a lavorare con Olivetti nel 69 70 perché questo progetto nasce dal 71 secondo molti ma in realtà non è vero perché c'è stato un anno di grande preparazione cioè proprio perché era una visione sistemica e diciamo organizzata proiettata nel tempo non dimenticate che per esempio il l'imballi di spedizione di prodotti sono durati 25 anni quelli fatti negli anni 70 negli anni 90 erano ancora in circolazione ed erano ancora utilizzatissimi allora questo tipo di situazione che io ritrovo all'inizio degli anni 70 era legata all'aumento del numero di persone che mettevano letteralmente le mani sulle cose che prima erano riservate a pochi e proprio perché questo cominciava a succedere in tutto il mondo in tutto il mondo le aziende più responsabili e l'Olivetti è stata tra le prime non la primissima come dicono perché lì abbiamo avuto Pol Rende con l'IBM che ha preceduto diciamo i manuali nostri di pochissimo però la grande differenza la grande novità del lavoro che abbiamo fatto noi e che è diventato così importante è soltanto per il fatto che questi manuali che noi abbiamo fatto erano dei manuali di tipo nuovo che solo alla Olivetti potevano nascere erano manuali di tipo operativo lo chiamavamo così oggi noi sappiamo che era fatto invece in forma metaprogettuale dunque andavano al di là della singola soluzione ma più che altro avevano come intenzione quella di semplificare in un certo senso le icone che venivano utilizzate rendendole molto forti ma abbastanza semplici da poter essere gestite attraverso una sorta di documento che sono poi i manuali che era più un diciamo un quaderno di ricette piuttosto che un menu in genere tutti gli altri produttori IBM in testa presentavano una facciamo proprio una presentazione di status attraverso segni simboli che venivano definiti si potevano capire eccetera però in realtà uno andava a scegliere delle cose che erano state lavorate da persone molto esperte e che le sarebbero rimaste in mano a queste persone invece noi avevamo una situazione molto particolare che era la seguente l'estensione dell'olivetti era pari a quella dell'IBM soltanto che le persone dell'IBM in Thailandia erano dieci volte il numero di quelle dell'olivetti per cui queste persone dell'olivetti dovevano farsi la carta da lettere da soli oppure avere un'assistenza che partiva da Milano in questo caso da Ivrea era molto difficile la cosa migliore a questo punto che è stata accettata come proposta era quella secondo me di lavorare attraverso il metaprogetto attraverso tutti questi insegnamenti e questi esperimenti che c'era un procedù che erano stati anteriori proprio già in Olivetti anche con Sotsas in particolare naturalmente la persona che era dietro questa operazione la persona che capiva il tipo di strategie di fondo che andavano usate era sempre presente ed era Ettore Sotsas lui a un certo punto ha avallato questa strada e ovviamente questa è stata subito diciamo accettata e approvata per cui io direi che il senso di privazione alla creatività è vero è vero ma però in realtà c'è una forma di partecipazione che anticipa tantissimo tutte le condizioni e i modi di lavorare e di approcciare la realtà si passava dal concetto di stile che è legato più che altro ai comportamenti alla visione dei modelli la cosa veramente nuova e perché io ho citato Peccei perché Peccei ha fatto un lavoro presentato alla fine degli anni 60 e poi che è comparso attraverso il Club di Roma in modo ufficiale all'inizio del 70 73 in particolare dove parlava di modelli di vita non parlava più di stili di vita da 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 allora noi abbiamo avuto una grande opportunità che è stata quella di pensare alla cultura del progetto nel momento in cui si lavorava con lo stile il concetto di cultura di progetto cioè di valore immanente delle cose che noi andavamo a fare non era presente c'era il genio c'era la cultura del non so per gli americani l'italianità era qualcosa di particolare i comportamenti nello stile sono quelli appunto collegati ai concetti di stile di vita e così via io credo che per nostra sfortuna oggi questo tema dei modelli sta diventando ancora più importante noi abbiamo una libertà limitata e dobbiamo saperla utilizzare nel modo migliore e più ragionevole più intelligente che non è quello di spingere i termini del comportamento e basta a mio avviso credo che l'idea più giusta sia di dare valore alle cose piuttosto che alle persone è finito il rinascimento questa storia che tu dici siamo in un nuovo rinascimento è una storia assolutamente sbagliata noi stiamo entrando in un'altra area di cui io non oso dire il nome perché perché me lo tengo per un altro momento perché non vorrei ma sta cambiando tutto non siamo più nella modernità tra l'altro con questa pandemia noi usciamo dalla modernità la nuova fase ha già un nome lo vedremo se sarà lui io non lo dico per questa sera ancora ma tutti i segni ci indicano che noi dovremmo avere forme di non comportamento dovremmo dare valore all'ambiente alle cose a quello che esiste e non alla nostra presenza che è eccessivamente invasiva è stata eccessivamente invasiva ho detto forse troppo ma lascerei il però direi che ho tentato di inquadrare questa differenza questa condizione che noi ci ritroviamo continuamente a valutare tra comportamenti soggettivi individuali pensate a tutta la storia che io ho visto nascere a Torino per quello che riguarda l'Italia delle performance le performance nell'arte erano delle forme di espressione del sé ma del sé umano noi oggi dobbiamo metterci un pochino da parte sono storie noiosissime negli ultimi anni non ce la facevo più vedere questo tipo di cultura veramente come posso dire di seconda terza quarta mano si capiva che si stava andando a sbattere contro qualche cosa ma tutti vivevano in questa forma di edonismo soggettivo noi abbiamo dei problemi collettivi possiamo risolverli solo con grandi visioni sistemiche i vaccini sono grandi sistemi non sono altre non sono medicine come quelle diciamo omeopatiche non hanno per cui siamo in situazioni culturali chiarissime ma molto differenti e in realtà sembrerebbe che ancora non ci sia così chiara la cosa ma lo diventerà lo diventerà per ragioni diciamo di forza maggiore purtroppo ripeto perché io anche io preferisco questo tipo di flessibilità generalizzata che ci si ci è sempre presentata che è poi la nostra forma di libertà di scelte e così via Dino grazie grazie mille intervento molto interessante anche questo riferimento all'edismo al sistemico a Aurelio Pecce insomma che è stato appunto ricordiamo l'amministratore delegato dal 64 al 67 poi il motore di quel famoso rapporto chiamato Limits to Growth pubblicato nel 72 grazie Antonio eccolo vogliamo farti una domanda visto che ci sono anche tanti studenti tra l'altro collegati ecco perché un'azienda decide di dotarsi di un nuovo typeface di un nuovo carattere tipografico visto che hai lavorato anche molto anche con aziende quali Eni poi istituzioni quali Lewis eccetera intanto anche se è tardi per dirlo grazie per l'invito anche da parte mia perché ho finalmente attivato il microfono posso dirlo e per intanto per onestà intellettuale onestà in generale voglio soltanto aggiungere la tua introduzione che si ho lavorato per queste aziende ma non direttamente soprattutto come partner di Inaria quindi il network fondato da Antonio Romano di cui sono stato dieci anni socio in Germania quindi ho ricevuto l'incarico da Inaria per questi specifici progetti che hai citato poi ce ne sono stati altri anche altri in corso ma non è questa la domanda che mi hai fatto quindi arrivo subito al tema un tema intanto abbiamo sentito da gli altri due relatori c'è un filo rosso che conduce attraverso questi interventi secondo me è quello che il design al di là della ricaduta formale e della ricaduta tecnica significa soprattutto anche atteggiamento e questo vale anche chiaramente per il contesto di cui sono chiamato io a parlare quindi il tema è un tema che in realtà è stato sempre potenzialmente di attualità soltanto è l'attenzione che è cresciuta intorno al tema c'è un parterre di condivisione su questo tema quindi caratteri tipografici proprietari quindi oppure come si diceva oggi font design voglio entrare nel merito del discernimento terminologico qui perché dovremmo farlo però chiamiamoli font chiamiamoli caratteri l'importante è che ci capiamo c'è un parterre di condivisione più pop più popolare per due motivi uno perché oggi rispetto a un passato remoto o anche abbastanza abbastanza recente uno è di carattere relativo al contesto tecnico prima produrre una famiglia di caratteri tipografici anche dopo il piombo equivaliva a un in dire un processo di produzione industriale era come progettare produrre un'automobile per dire quindi c'erano queste grandissime grandissime aziende come la Linotype la Monotype l'ITC e così via che esistono ancora oggi come brand distribuzione ma non hanno più quelle strutture internazionali e quel modello industriale che è una delle cose che è venuta a mancare dopo l'introduzione soprattutto del Mac del PC nel mondo della grafica e poi c'è una ragione questa è la ragione che introduce il tema invece più interessante è la nuova centralità della parola noi si è parlato di epoche si è parlato di un'epoca in cui si entra quella in cui sicuramente siamo da tempo è questa della nuova centralità della parola perché fino a poco tempo fa non vi ricordate che si diceva un'immagine dice più di mille parole un'immagine dice più di mille parole probabilmente veniva detto anche da tante persone che mille parole tutte insieme non le avevano mai viste poi voglio vedere l'immagine che dice in maniera più efficace non lo so l'anima è mortale per dire una cosa del genere l'immagine che dice in maniera più dritta insomma comunque la situazione oggi ha cambiato in maniera particolare perché soprattutto per orientarci nei meandri della rete di questo paesaggio epigenetico che ci siamo creati intorno noi non usiamo pensate per esempio a un motore di ricerca noi nel motore di ricerca non immettiamo delle immagini ma immettiamo delle parole perché l'immagine può ingannare anche lenta di creazione e di interpretazione che può essere un'interpretazione ingannevole pensate semplicemente a un esempio qualsiasi non lo so la croce rossa su fondo bianco è un esempio che faccio spesso visto che siamo in tema può essere la croce rossa su fondo bianco dello stemma della città di Ivrea quella di Milano la croce di San Giorgio che ci porta in Inghilterra piuttosto che la croce rossa stessa quindi non arriviamo necessariamente in maniera affidabile a destinazione mentre se immettiamo la parola Milano nel motore di ricerca arriviamo sicuramente nel contesto milanese e non altrove quindi questa nuova centralità della parola è la nuova centralità del messaggio verbale rispetto dal messaggio quindi al contenuto rispetto al messaggio evocativo dell'immagine è un tema che ha una ricaduta anche sui sistemi di brand identity quindi oggi se vuoi essere percepito in qualche modo possiamo dirlo in maniera banale devi scrivere nome e cognome devi scrivere nome e cognome 26 e deve essere legibile quindi dotarsi di un programma che veste di codici identitari ogni espressione verbale è premiante in merito a quegli elementi e a quegli obiettivi che sono sempre il fine da sempre il fine di un brand anche in questo in questo periodo quindi la creazione di empatia e tra la creazione di empatia un parterri di relazioni con i pubblici di riferimento quindi se ogni cosa che leggo trasmette oltre al messaggio verbale anche un input relazionale doto ogni trasformo ogni messaggio verbale in un messaggio di prenda identity un messaggio identitario e quindi per tornare anche alla questione degli atteggiamenti che chi si dota chi capisce questo contesto e lo si capisce sempre più spesso e chi si dota di tali strumenti assume anche oggi l'atteggiamento da leader trasmette una certa leadership perché sviluppa un proprio pensiero un pensiero proprio quindi un sistema di scrittura proprietaria in confronto in relazione invece a ricorrere a soluzioni preesistenti da catalogo e dimostra tra l'altro anche un'indipendenza sia sul piano stilistico che sul piano legale perché non dimentichiamoci che per le aziende un font è comunque o un sistema di una famiglia di font sono dei software che devono essere licenziati e quindi a livello di organizzazione di gruppo rendere efficiente o eliminare il costo delle licenze che non soltanto esistono ma si reiterano ogni 5-10 anni a seconda del modello è un passaggio importante che viene capito sempre più spesso anche a suoni contenziosi perché ogni tanto accade che le grandi aziende i grandi marchi magari vengono citati in tribunale dalle grandi case editrici perché anche lì c'è stato un processo di concentrazione importante sapete che oggi praticamente esiste quasi solo monotip sul mercato e quindi l'attenzione verso le trasgressioni da parte dei grandi brand e per mancanza di cultura ecco all'interno delle aziende è abbastanza è abbastanza frequente e quindi perché lo fanno perché si fa per questo si fa perché il messaggio così si concretizza ovunque ovunque io parlo ovunque io scrivo si concretizza il messaggio in estrema economia basta una parola basta un segno basta un glifo anche soltanto percepito in maniera o rudimentale o veloce e quindi dotarsi di font proprietari equivale infine a redigere un universo di messaggi subliminali confezionati tra l'altro sul piano ontologico stesso di un brand quindi sulla parola su quello su quello che dico ogni giorno e non farlo equivale infatti al contrario a rinunciare a questo potenziale di messaggi subliminali poi ecco questo è il perché non so se abbiamo ancora due minuti posso dire un po' come si può procedere per trasformare un brand un logotipo in un sistema di scrittura ma questo è il contesto tecnico e culturale e le ragioni per cui questo tema sta diventando fortunatamente sempre più un'alternativa sul mercato un'alternativa soprattutto agli studenti un'alternativa di proposta e di proposizione nei confronti dei clienti quindi anche gli strumenti di sviluppo i software di sviluppo stanno diventando sempre più intuitivi sono sempre più alla portata dell'intuizione della formazione del graphic designer o del designer piuttosto che quelli invece molto ingegneristici del passato che invece non presupponevano una decisione professionale se fare una cosa piuttosto che un'altra invece oggi si può integrare benissimo in un portfolio professionale del graphic designer l'attività del font design grazie grazie mille grazie a voi colgo colgo qualche spunto che abbiamo sentito in questa bellissima puntata ci stiamo commentando con Luigi e con Pierpaolo che è molto molto profonda dovremmo avere qualche ora in più per andare avanti e sicuramente ma sicuramente ci daremo delle puntate successive allora abbiamo parlato ovviamente di brand identity di lettering di type design allora ricordo anche quello che stiamo facendo come Olivetti come archivio storico con Clino che è presidente poi di questo Olivetti Design Contest che è un concorso di idee che stiamo facendo insieme a dei giovani studenti in giro per il mondo nell'ottica di arrivare potenzialmente all'Olivetti type e quindi cercare di allungare la nostra storia anche in questo anche in questo ambito su qualcosa di contemporaneo con modalità narrative che a quel punto fanno parte di questo concetto di design allargato che citavo all'inizio faccio un un giro un altro giro di domande con tutti Clino parto da te abbiamo parlato di design abbiamo parlato appunto del design technology che è il nostro posizionamento di ricerca dell'eccellenza quindi tutto questo è un legame forte con la legacy che noi stessi viviamo quotidianamente poi io in primis che ho il cappello dell'archivio e di Olivetti vedo questo legame continuativo e costante quindi io ho chiaro cosa significa per me l'eredità di Olivetti per il mestiere che faccio quindi chiedo a voi partendo da Clino cosa significa per voi l'eredità di Olivetti allora se nel mio caso la cosa è abbastanza semplice l'eredità per me di Olivetti è quella di avermi permesso di continuare a fare le cose che ho amato sin dall'inizio e che ho fatto proprio in primis con l'Olivetti questo direi ovviamente è una condizione fortunata ma che viene dal fatto che sono stato sempre accolto in un modo straordinario da delle persone che avevano delle grandissime qualità e queste sono cose che ti formano non soltanto ti formano veramente e quando tu sei formato poi continui a fare sempre le stesse cose nella vita più o meno grazie no è corretto è corretto ed è quello che poi stiamo imparando io personalmente ovviamente non ho l'esperienza tua in questa in questa storia olivettiana me la sto vedendo da fuori e quindi questa formazione sicuramente si vede ed aiuta molto a fare meglio tutta una serie di percorsi Antonio invece per te cosa significa l'eredità di Olivetti l'eredità Olivetti significa proprio mi dispiace ripetere una cosa che ho sentito però è una cosa che ho sentito e che sento è proprio questa attualità di qualsiasi intervento perché stile significa comportamento stile significa non ricadere in modelli preesistenti ma per sviluppare un pensiero strategico quasi quasi so che Adriana Olivetti non era così ma a me sembra di leggerlo di leggerlo così un industrialista che quasi vuole ritrasformare l'industria in poesia in questo senso qui e quindi per me è un grande motore di innovazione e di rinnovamento grazie mille Carlo la stessa domanda anche a te il microfono microfono sì pardon allora non è facile perché delle eredità Olivetti sono un po' tanti che vogliono appropriarsene è un po' contesa come eredità anche nel campo del design e io forse dirò più cosa non è l'eredità Olivetti dal mio punto di vista quello che non è secondo me è l'anticipazione del branding inteso in un certo senso ovviamente oggi brand design branding è diventato sinonimo del lavoro che i designer fanno sull'immagine d'impresa e va bene così ma storicamente io di mestiere faccio lo storico è un'altra cosa tant'è vero che uno dei sacerdoti diciamo del branding contemporaneo come Wally Hollins quando parlava del lavoro di Adriano Olivetti diceva no questo non ci interessa fondamentalmente perché non è trasferibile da altre parti è una cosa eccezionale Adriano Olivetti lavorava per diciamo come mecenate e così via allora quello che dicevo prima molto velocemente il branding per troppo tempo ha lavorato per nascondere l'azienda e per creare un immaginario appropriarsi di proporzioni di immaginario e creare un'immagine parallela ora io non sono così ingenuo da pensare che esiste la possibilità di rispecchiare l'identità di un'azienda è sempre una costruzione ma Olivetti credeva nella possibilità di avvicinarsi a quella realtà e di parlare dell'industria materiale la sua tecnica i suoi prodotti e questa cosa qui secondo me va recuperata e non è il branding inteso come è stato inteso per molto tempo diciamo quindi introduco un po' questo elemento di problematizzazione delle cose grazie Pier abbiamo tempo per fare un altro rapido giro di commenti in libertà io direi invece scusi no va benissimo guardavo la chat visto che ci sono due domande no scusa certo commenti le dà o domande certo assolutamente allora l'iscrizione al contest è ancora aperta? chiedono il contesto Olivetti chiaramente no è chiusa ci sono tutte le informazioni sul sito Olivetti poi se vuoi dalla chat se ci lasci i tuoi riferimenti ti mandiamo comunque un link e poi c'è una domanda per Clino può raccontarci uno degli eventi che più ricorda il fianco di Ettore F. Zass vi ringrazio per la spegne da puntata grazie c'è anche il commento finale scusa ne ho due ne ho due non so se allora uno vabbè è molto importante perché è quando io l'ho sentito per la prima volta parlare della cultura del progetto e spiegare cos'era allora io ero appena arrivato ovviamente non ricordo chi era l'ospite era un ospite straniero e lui aveva appena disegnato la la Tecne alla quale io ho fatto in tempo a mettere i caratteri della della tastiera e basta era già fatto era un progetto che aveva seguito FonClear un progetto bellissimo e questo lavoro aveva come natura proprio un'opposizione totale con i concetti che in quel momento erano quelli del di un design seduttivo tanto per intenderci con i prodotti che erano della dell'ABM l'ABM aveva come un capo design corrispondente fate conto di Sotos ma forse di più forse anche unico aveva comunque una serie di grandi figure come IMS eccetera che lavoravano attorno all'azienda e sui prodotti questo architetto aveva anche messo in mano aveva fatto una una macchina la Selectric che era una specie di sasso scavato un oggetto plastico molto sofisticato molto elegante con dei bei colori che andava soprattutto per le macchine da scrivere delle segretarie mentre la Tecne era una macchina che era più orientata a diciamo agli uffici delle datil alle stanze delle datilografie cioè alla produzione massiva di stampati dattilo scritti e Ettore ha avuto un'idea geniale che spiega molto bene che cosa vuol dire cultura del progetto allora mentre quella macchina era una macchina la macchina dell'IBM era seduttiva bella colorata un oggetto unico che faceva sognare le segretarie direzionali eccetera qui invece il tentativo di Sozio era di fare scomparire il prodotto di farlo di proprio di non di renderlo mimetico e cosa ha fatto l'ha fatto diventare come una sorta di estruso che poi ha tagliato a tante fettine e ha distribuito queste fettine sui vari tavoli tutti allenati in ordine negli spazi dove queste persone lavoravano praticamente un oggetto messo in un modo geometrico inserito nello spazio scompare in un certo senso scompare viene diciamo integrato dalla geometria spaziale e scompare sul piano plastico io quando ho sentito questa storia ho capito per la prima volta in vita mia la differenza che c'è tra la riproduzione di un prodotto industriale come moltiplicazione di una forma e invece la creazione di un prodotto che ha che segue una visione della cultura del progetto che cosa dice la cultura del progetto in questo caso dice che l'oggetto vale di per sé cioè la grande invenzione il motivo per cui tutti sono venuti a Milano a imparare io per primo a fare questo lavoro è che qui a Milano rispetto a quello che è successo in tutta l'Europa si è sviluppato proprio in quegli anni si è sviluppato una visione dove questa parola aleggiava e faceva capire che erano più importanti gli oggetti che le persone tant'è vero che ricordo una grande gaffe colossale di personaggi che hanno comprato grandi aziende ed erano che hanno pensato di portare la figura umana in mezzo agli arredi e vicino ai prodotti del design i prodotti del design non avevano mai presenze umane avevano sempre la loro entità la loro identità ecco allora l'idea di lavorare così profondamente su questo tema e sentirlo spiegare da lui è stata una cosa che mi ha segnato per sempre una di tanti poi c'è un'altra piccola storia che continua a questa ma non abbiamo forse tempo grazie senti un ultimo pensiero anche per voi Carlo e Antonio se volete qualcosa che non vi è uscito nei due momenti precedenti complicato adesso no vabbè credo che ecco forse un invito lo dico sempre nei contesti diciamo olivettiani a non perdere la diciamo la voglia di conoscere la storia di Olivetti e non solo è giusto celebrarla è giusto raccontarla è giusto ma conoscere quindi nuove ricerche infatti io quando voi mi avete contattato per questa cosa sono stato un po' indeciso quasi stavo dicendo ci sono dei giovani che conosco che stanno facendo delle ricerche nuove io non ho niente di veramente nuovo da dire poi ho capito che era una cosa divulgativa però il mio augurio è veramente che oltre che le celebrazioni che continui il processo di conoscenza perché ci sono ancora tante cose che non conosciamo è un mondo così complesso e ricco che ha bisogno di attraverso l'archivio appunto di essere conosciuto anche magari nelle sue contraddizioni nelle cose un po' meno diciamo nobili che magari esistono e così via questo è un po' il mio ultimo pensiero grazie Antonio il mio in realtà così dopo essere stato un po' sorpreso dalla domanda che mai avete fatto ho pensato mentre parlavano anche gli altri e quindi ho dato una mano dai pensare sì ma come dici tu Carlo che cosa dire si potrebbe dire talmente tanto hai fatto bene a iniziare a dire quello che non è allora a me invece è venuta in questa non soltanto in questa serata ma anche perché ho conosciuto una persona che ha lavorato ho avuto degli stipendi nel borsi di studio della fondazione e quindi parlava sempre del lavoro con Adriano intorno a questi tavoli quadrati e così via a me sembra al di là del valore della calore della presenza umana che traspira ancora chiaramente completamente con un'energia importante forse rimettere in ordine questo disequilibrio che si è venuto a creare e questa percezione sbagliata questo scambio che c'è tra mezzi e fini noi abbiamo definito abbiamo fatto diventare i mezzi i fini e i fini i mezzi e quindi ripartire dalle cose reali ripartire dagli oggetti ripartire dalle cose dalle res è forse una delle grandi consapevolezze dei grandi momenti di coscienza della realtà Olivetti grazie Antonio io sto già condividendo l'ultima slide non so Gaetano se vuoi dire qualcosa oppure posso lanciare appunto invitare più che altro ma io ora dico soltanto una cosa prima di pensare all'argomento nuovo al di là oltre a ringraziare ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito e chi ha voluto aderire alla richiesta di condividere con noi il tema dico soltanto di stay tuned lunedì seguiteci su tutti i social perché ci sarà qualche aggiornamento sul contemporaneo rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi attenzione vi incuriosisco lunedì scopriremo insieme un po' di cose ottimo e vi invitiamo ovviamente anche all'appuntamento del 29 aprile 2021 parleremo di view e macchine straordinarie l'ELEA 9003 la programma 101 in particolare la seconda viene presentata nel 1965 a New York appunto nel momento in cui c'è anche Aurelio Peccei tra l'altro allora c'era anche già Luigi Gabetti che era a New York proprio nell'ufficio dell'Olivetti Underwood e parteciperanno come vedete U Perotto e Rao Pier Paolo Perotto è il figlio di Pier Giordio Perotto Bene ecco torno qui vi ringraziamo tutti intanto grazie Vino grazie Antonio grazie Carlo grazie a voi è stato un piacere e siamo sempre meravigliati dalle persone che rimangono sempre collegate anche l'altro giorno fino alle 8 di sera insomma c'erano più o meno 80-90 persone anche adesso siamo poco fa eravamo 70 adesso siamo 65 bene grazie a tutti grazie a tutti e buona serata buona serata a voi arrivederci grazie